gentili telespettatori buona giornata a di martedì scontro tra magliaro e floris tito era comunista o no e floris dice ma che c'entra allora parliamoci chiaro perché questo magliaro è sempre ospite da floris sempre immancabile non ci sono altri commentatori di destra che possono andare a di martedì da floris non è come piazza pulita dove quelli di destra non ci vanno perché lì ti costruiscono una trasmissione contro a di martedì floris non ti costruisce una trasmissione contro e quindi quelli di destra ci vanno tranquillamente ma non avete ancora capito perché questo magliaro è sempre ospite fisso perché è quello che adesso sto cercando di dirvelo in un certo modo sto cercando di utilizzare le parole adatte diciamo che magliaro non è il perfetto difensore del centro destra in una trasmissione come questa quindi viene invitato proprio perché non fa fare proprio questa bella figura al centro destra proprio per le cose che dice per questo che è sempre lì floris sceglie degli interlocutori di sinistra e di destra nella trasmissione quelli di destra che lui chiama diciamo che sono quelli meno adatti a difendere il centro destra mi sono spiegato no è una tattica che utilizza floris e che gli riesce benissimo come in questo caso con lo scontro in diretta a di martedì sulla 7 proprio ieri martedì 13 febbraio allora si parte così ignazio la russa ha detto che bisogna ricordare durante il festival di sanremo nel giorno del ricordo delle vittime delle foive che tito è stato un boia comunista deve entrare in funzione l'autocensura non si può dire che tito è stato comunista quindi togliere a questo signore la cittadinanza onoraria i premi e le medaglie chiede magliario magliario ma come cavolo si chiama magliaro a giovanni floris quindi secondo magliaro bisognava dire al festival di sanremo ricordatevi che tito era un boia comunista a tito hanno baciato l'anello tanti presidenti della repubblica italiana ricorda ancora magliaro tito è stato un infoi batore un assassino e questa roba va detta nel momento in cui noi facciamo il giorno del ricordo ricordiamo nomi e cognomi tito è stato un assassino è vero che era comunista o no insiste rivolgendosi direttamente a floris ma il conduttore floris dice ma che c'entra amadeus ha parlato di tito senza dire che era comunista sottolinea ancora magliaro vi posso dire anch'io ma che c'entra come floris vi dico anch'io ma che c'entra se spostiamo la se spostiamo la discussione verso il basso tra dico sei comunista dico sei antifascista se spostiamo la discussione a questo livello poi vince floris perché se la discussione va a un livello basso è proprio l'obiettivo di giovanni floris proprio di mostrare ai telespettatori del suo programma di destra e di sinistra che gli ospiti di destra fanno delle affermazioni che sono di livello basso basso la polemica era stata sollevata dal presidente del senato che ai microfoni di un giorno da pecora aveva commentato per fortuna non so se c'entra un briciolo di merito mio che l'avevo segnalato amadeus si è ricordato delle foibe anche se per carità il maresciallo tito non si sa che ideologia avesse secondo amadeus dice la russa ha ripetuto tre volte le truppe le cose del maresciallo tito come se non sapesse che il 90 per cento di chi ascolta sotto i 50 anni non sa neanche chi fosse il maresciallo tito doveva specificare doveva dire titini comunisti che c'è di male il punto è questo al festival di sanremo ricordando le foibe è già automatico dice c'è oggi è il giorno della memoria delle foibe è già automatico questo se poi tu devi specificare che le foibe sono state una cosa fatta dai comunisti guardate secondo me la discussione portata in questi termini è un livello molto basso perché se abbiamo la sinistra che da quando è asceso in campo berlusconi 1993 94 ha continuato in maniera estenuante a parlare di antifascismo 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 e a vedere fascisti dappertutto se la destra dall'altra parte comincia ad utilizzare lo stesso tipo di moneta cioè vedere comunisti dappertutto ricordiamo il comunismo ricordiamo cosa ha fatto il comunismo vuol dire mettersi a livello della sinistra invece fino adesso non c'è stato questa scesa di livello per quello che vi dico floris invita a proposito questi esponenti difensori del centro-destra perché floris sa che il livello della sinistra è molto basso e fino ad oggi la destra non è mai scesa al faccia faccia a tu dici antifascismo allora devi dire anticomunista la destra per il momento non era ancora arrivata a livello della sinistra così basso l'idea di floris invitando questi personaggi e di far scendere il centro-destra a livello della sinistra in modo da dire sono impresentabili a sinistra con le loro idee sull'antifascismo sono impresentabili a destra con le loro idee sull'anticomunismo nel 2024 quindi quando floris ha capito che il livello della sinistra non sale ormai da 30 anni dice meglio abbassare anche quello della destra così perlomeno sono alla pari ecco e questi questi ospiti come massimo magliaro sono perfetti per l'obiettivo di floris non so se sono riuscito a spiegarmi chiaramente perché a volte devo fare anche dei giri di parole per dire alcune cose per non risultare offensivo per non risultare poi tacciabile di chissà quale malefatta grazie a tutti e buon proseguimento di giornata arrivederci e grazie